Sì, quello con la bandiera. Ecco, vedi? Sta' attenta, tra un minuto ci siamo. Tutta sta roba si è venuta da su dopo la guerra. Quando sono arrivato a Roma a me, qui si era tutto prato. Ecco, non il primo, il secondo. Quello dopo la chiesa? Sì, quello con la bandiera. Mariani! Non te possono sentire. Mi piaceva che i miei amici mi vedessero. Madonna, quante case! Vanno bene così, capo. Sto un po' qua con la cazzuola. Sì, ma cerchiamo di non fare vedere da ingegnere. Ma perché gli dobbiamo imparare il mestiere? Dopo ci parà la concorrenza. Sor Giovanni, è una ruota, no? Sì, Sor Giovanni. Tiero, continua qua. Però sta' attenta al filo, eh. Metti i calci. Così, metti il mattone. Ti rubi avanti. Ancrociare devi andare. Sinò ti casca tutto addosso.